Oggi un po' di storia Oggi un po' di storia Allora, apriamola Visto che, ora vediamo una notizia Questa radio Da settembre Proverà a fare, anzi dovrà a fare Un salto di qualità Forse diventeremo una radio Commerciale scritta al tribunale Abbiamo già avviato le pratiche E quindi avremo Anche la possibilità Credo di fare inserzioni Sul nostro sito www.radioromafutura.it E anche passaggi in radio E questo lo dico per se conoscete qualcuno Che può essere interessato Scriveteci su Facebook Scriveteci su Twitter, dove vi pare Comunicateci, ci metteremo in contatto con lui E quindi Abbiamo anche delle nuove rubriche A cui stiamo pensando Per potervi intrattenere ancora meglio E ancora di più Una di queste ce la racconta Ora Alessandro Paglioni Sì, avevo Intenzione di fare Una Di fare una rubrica Di Di raccontare Che cosa è successo In determinati giorni in cui ci vediamo Noi ci vediamo una volta a settimana Che cosa è successo Anni passati In questi giorni E in questi giorni Sono successe Negli anni passati Cose Importanti Che ci hanno anche Che ci hanno anche Riguardato A noi Quella che mi viene in mente De raccontare per prima Ovviamente È il 17 giugno 2001 Dove la Roma Si laurea Per la terza volta Campione d'Italia Sconfingendo il Parma Per 3 a 1 Una vittoria del campionato Meritata Contro Juventus E contro la Lazio Lo scudetto scucito Ai cugini biancocelesti L'ultima partita Che ha visto Che ha visto Andare Andare in gol Totti Montella E Batistuta E come poteva non essere così E E sconfiggere il Parma E conquistare Per la terza volta Il Il terzo scudetto Per quanto riguarda Ovviamente Ci sarebbe Da dire Un miliardo di cose Su questa Su questa giornata Ma ovviamente Il tempo non c'è Quello che volevo dire È che ovviamente Il È Il ricordo maggiore Per quanto riguarda La mia esistenza Anche se non l'ho potuto Vivere al meglio Perché avevo pure Avevo solo 6 anni Per quanto riguarda Altre giornate storiche Volevo parlarvi Del Di oggi Oggi è 21 giugno 21 giugno È la data Di due vigilie Di alcuni eventi storici La prima vigilia È il 21 giugno Del 74 Il mondiale del 74 Quello fatto Quello svolto In Germania Vinto appunto Dalla Germania Di Peckenbauer Che Nei gironi Si è trovato Nello stesso girone Di Cile Australia E Germania E Germania Quindi il mondiale È aspettato Per tutto il tempo L'evento L'evento è a corsa L'evento è stato Il 22 giugno Del 1974 Il mondiale Il mondiale Il mondiale ha visto La sfida Tra Germania Ovest E Germania Est Dove la Germania Est Ha trionfato Con gol di Spars Spars E il detto Spari Per 1 a 0 In quel momento Come dice il nostro Federico Buffa Beckenbauer Ha preso tutti i giocatori E li ha portarsi A obbragarsi Di birra E Quella sera La Germania Ovest Ha vinto il mondiale Perché Si è Si è ricompattata Tutta E ha saputo Ricompattarsi Fino ad andare Alla finale Vinta poi Contro l'Olanda Per Di Johan Cruyff Per 2 a 1 Il 21 giugno E anche la vigilia Di un gol Di un gol Meraviglioso Del giocatore A mio avviso Più forte Di tutti i tempi Il 21 giugno E la vigilia Del gol del secolo Di Maradona Contro gli inglesi Partita vinta E ovviamente Del gol di mano Della mano di Dios Di Maradona Contro gli inglesi Gli inglesi che In quei tempi Avevano Avevano Diciamo Ucciso Un sacco Di soldati argentini Nella guerra Del Malvinas E Maradona Prima della partita Durante il riscaldamento Gli ha indicati Dicendo Questi hanno ucciso I nostri compatrioti Ora vediamo Che cosa sappiamo Fare noi Maradona Vince quella partita Con un gol Di mano Che è proprio L'embleva Di Maradona Del ladro Che ruba Ricco Del Insomma Del Peter Pan No? Sì del Peter Pan Del Robin Hood Volevo dire Che ruba Che ruba Ricco E infatti Maradona Una volta fatto Il gol di mano Guarda poi Guarda poi L'arbitro Che non si accorge Di niente E assegna il gol Qualche minuto dopo Succede il gol del secolo Il passaggio a 70 metri Da parte Del centrocampista argentino Che dà palla a Maradona Una palla scomoda Data sul piede destro In mezzo a due giocatori Maradona la stoppa E dopo Dopo 12 secondi 44 passi 20 tocchi 20 tocchi Solo di sinistro Mette dentro il gol del secolo E trascina l'argentina Fino alla semifinale Contro il belgio Vinta ancora Per 2 a 0 Ancora da parte Da parte dell'argentina Che poi vincerà il mondiale Per 3 a 2 Contro la germania Insomma Questi sono i fatti fondamentali Che sono successi In questa settimana Che Insomma In questa settimana Da martedì scorso A oggi E Insomma Volevo rendermene partecipe Grazie Ale Che hai inaugurato Questa rubrica Che porteremo sicuramente Avanti Insieme a altri progetti Che la stiamo Valutando E Vediamo qualche altra Notizia di calcio mercato Si parla di calcio mercato In uscita Per due giocatori I giallorossi Uno di questa stagione E l'altro che è rientrato Praticamente Di Iago Falche Di Ilaic Sulle tracce Di Falche Ci sarebbe Sia il Torino Sembrerebbe interessato Un prestito annuale Oneroso 2 milioni Obbligo di riscatto Del cartellino A 5 E E anche Il Granata Che sarebbe Disposto Invece a pagare Direttamente 8 milioni Nelle casse Giallorosse Perché Il Granata Perché La società Il DS È Iever Torralbo Che stavano Che erano Che stavano insieme Al Raio Valeano insieme A Iago Falche Nella stagione 2013-2014 Quindi questa è la situazione Per quanto riguarda Falche Mentre per Adam Ilaic La situazione È diversa Giocatore Che è tornato A Roma Dopo l'esperienza Diciamo Non brillante Con l'Inter Sarebbe Stato Messo Nel mirino Da Sinisa Mianovic Che l'ha già Allenato Come allenatore Della Serbia Sarebbe E quindi Avrebbe chiesto Al Torino Di sborsare Tra i 6-7 milioni Per una Questa A titolo Definitivo Insomma Tra trattative In una uscita Che sicuramente Servono a questa Roma Che deve monetizzare Tanti esuberi Che ha In rosa E a proposito Invece Di mercato In entrata Si parla Di Mario Rui Il giocatore Che sembrava ormai Dato per certo A Roma Invece Da quanti Corsi Le carte Sarebbero pronte Sarebbe già Tutto pronto Manca solo L'ok Della società Giallo Giallo Rossa Che sembrerebbe Voler aspettare Gli esiti Delle trattative Con il Prestanger Man Per il riscatto Di Dign Il Prestanger Man Ricordiamolo Continua a chiedere 16 milioni Per il cartellino Di Dign Mentre la Roma Vorrebbe scendere A 10 Massimo 11 Quindi diciamo C'è un po' di lotta Sul cartellino Vedremo come andrà a finire Sembrerebbe che Se non dovesse andare In porto Dign Avrebbe Mario Rui Da quanto ho capito Da quanto Da quanto Si dice Da quanto dice ForzaRoma.info Ci hanno chiesto Un po' di soldi Tanto Un po' troppi soldi 16 milioni Forse Troppo Dopo che hai pagato Il prestito Magari basterebbe Anche Basterebbero Anche Di meno Basterebbero Anche appunto Gli 11 milioni Mi sembrano Più che onesti Si Intanto il Milan È molto Intanto la Croazia Parigi Alla Croazia Appareggiato Va bene Ancora si parla Di Roma Benatia Ritorno è possibile Vabbè questa Sembra una Novela Che è destinata Durà per tutta Durà per tutta la vita Durà per tutta la vita Intanto la nostra situazione Castane Il giocatore Si dice In debito Con la società Giallo Giallo Rossa Non vuole essere Di peso Quindi è disposto Un po' scomoda Perché la Roma Non sa bene Secondo me Difficile anche Da trattare Beh sai La Roma Io credo che La Roma Ha investito tanto In questo giocatore Pure dal punto di vista Della pazienza Le cure mediche La Roma Gli ha dato merito Ha seguito questo giocatore Anche in un momento Della sua malattia Lui infatti Ha dichiarato Che lui A un certo punto Voleva appunto Risolvere In maniera consensuale Il contratto Per non essere Un peso Per la Roma E Sabatini Gli ha detto No Tu resti Ti paghiamo Ti paghiamo le cure Resti con noi E tornavi a farti di prima Quindi diciamo Una bella storia Che non sembrerebbe Avere ancora Un lieto fine Non so se Lui si sente pronto Soprattutto per un'altra Stagione Da In cui dovrebbe essere Titolare O almeno riserva sicura Vedremo come si evolverà Insomma Il mercato E come si evolverà La situazione Inter-NOS Tra questi due giocatori Invece Parliamo ora Di Italia-Svezia Alessandro Italia-Svezia È una partita Molto più complicata Se vogliamo Per i ritmi di gioco Rispetto a quella Contro il Belgio Un'Italia Molto più brutta Una partita brutta Una partita brutta Primo tempo Tu dove l'hai vista Anzitutto Come te le sei viste Queste partite Dove e perché Allora E con chi Non sono belle storie Queste in verità Perché la partita Di Italia-Bergia L'ho vista New Age A Piazza Fiume Pubblicità occulta No Cioè Stava semplicemente Ho vista Piazza Fiume Con Jacopo Vabbè Con qualche mio amico Con un paio di amici Mentre Mentre Italia-Svezia L'ho vista a casa Con i libri davanti Ah brutta Brut tremendo Una cosa Di una tristezza Con papà E un suo amico Mamma mia Anzi Tremendo Eh capito Questa è stata La mia E tu? Io invece Lunedì Sono andato Con gli altri Compagni L'università In un locale All'aperto Al Monc Insomma Tanto sti cavoli Possiamo dire I nomi dei locali Al Monc Via Portonaccio All'aperto Tranquillo Birretta Outdog Sborsato un miardo Di euro Vabbè ovviamente E invece Venerdì Più o meno Come te Nel senso Stavo in Facoltà Con i libri Hai visto all'università Sì In aula Hanno messo Il grande schermo Alle Alle tre Pausa Tutti in pausa Partita La facoltà vuota Se abbiamo visto La partita E poi siamo tornati Sui nostri libri Il nostro diritto Nel mio caso E no Ti stavo chiedendo Invece Su Italia-Svezia Che partita hai visto? È stata una partita brutta Anche perché Tutte e due le squadre Diciamo Come modo di giocare Speculano Cioè Si adattano Alle caratteristiche Dell'avversario La Svezia Perché Non è una buona squadra A parte Ibrahimovic Quindi Non è che può fare Tutta questa partita Mentre l'Italia Come proprio modo Di giocare È una squadra Che non è portata Per il possesso Valla Insomma E quindi È venuto fuori Un primo tempo Veramente Di una noia Clamorosa Mentre il secondo tempo Un po' meglio Comunque Le occasioni Non è che ne abbiamo Avute molte Abbiamo preso Una traversa Con parolo E poi E poi Ci siamo Insomma Eder Si è inventato Un grandissimo Gol Ricordo che Il gol Dell'Italia È nato Da Giorgio Chiellini Che non ha seguito Le indicazioni Dell'allenatore Conte Che Conte chiedeva Calmo Giorgio Calma Passale indietro Chiellini Non l'ha ascoltato Ha andato lungo Per Zazza Ha fatto un grande Stacco di testa E poi Eder Si è inventato Un gol Una difesa Un po' Insomma Che non è intervenuta Su Eder In 4 Non è stata una gran difesa Comunque Grandissimo Gol di Eder Che Ha fatto esplodere Gioia Gli italiani Gli oriundi Quelli che odiano gli italiani Quelli che odiano gli italiani Quelli che odiano gli oriundi Un po' tutti Ha fatto esplodere Ha messo tutti d'accordo E insomma Ci ha portato A questi ottavi di finale Dandoci il primo posto matematico Inoltre 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 Stiamo aspettando Per stasera La nostra prossima avversaria Tra Spagna Croazia E Repubblica cieca Andremo a vedere Stanno uno pari Croazia e Spagna Turchia sta vincendo Invece Quindi la Turchia Anche spera ancora Con la Repubblica cieca E insomma Vedremo Vedremo Staremo a vedere Staremo spettatori Questo europeo Che si preannuncia Comunque Molto interessante Molto interessante Anche Ho visto anche Buonissime nazionali Oggi ho visto La Germania Vabbè sì Ovviamente la Germania E poi Come dicevi Anche hai detto Nelle scorse volte La Polonia Sta facendo Un buonissimo Europeo Assolutamente La Polonia La Croazia La Croazia era un po' più Prevedibile Ho detto La Turchia Che fa schifo La Polonia Infatti ricordiamo Ora è seconda Per i merito Con la Germania È passata per seconda È passata per seconda Certo È finito No perché la Polonia Veramente Ha dei grandissimi giocatori Ziliski Milik Lewandowski Klick Piszczek Blaszczykowski Oggi ha segnato E insomma Una grande bella E poi tra l'altro Andrà in Agli ottavi di finale Con la Svizzera Quindi una tra Svizzera E Polonia Va ai quarti di finale Sì Per la Svizzera Secondo me era di più La Polonia Della Svizzera Sì sì Anche perché la Polonia Secondo me è proprio forte Settamente più forte Sì Pure secondo me La Svizzera Noi ci incontriamo La Croazia È veramente tosta Sì Ma Sono matti Non sarà una partita Sì